Ciao e benvenuto qui sul mio canale YouTube dedicato al flauto e sul sito internet elezioni di flauto.it. Ci troviamo all'interno della sezione dedicata al flauto attraverso e oggi voglio presentarti un piccolo e abbastanza semplice esercizio che potrai praticare proprio con questo bellissimo strumento. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti a questo canale se non sei ancora iscritto premi sul pulsante iscriviti attiva la campanella delle notifiche così rimarrai sempre aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Mi raccomando poi visita il sito lezioni di flauto.it perché troverai tantissimi articoli che riguardano non solo il flauto attraverso ma anche il flauto dolce, il flauto di pan, il tin whistle, il flauto irlandese e la bellissima o carina lo strumento tutto italiano che davvero ho visto riscontrare molto interesse da parte di chi mi segue. Bene, l'esercizio di oggi è in tonalità di Mi minore, questa tonalità è la relativa minore di quella di Sol maggiore, quindi abbiamo solo una nota alterata che è il Fa diesis. Dopo di me trovi l'esercizio, lo ascolterai suonato sopra il metronomo e subito dopo ci sarà il metronomo con la partitura sempre sullo schermo con il quale tu potrai esercitarti. In questa parte finale del video c'è anche la linea melodica guida, quindi le parti suonate sono ancora sul metronomo ma ha un bassissimo volume così in pratica tu potrai esercitarti da solo ma avendo comunque un piccolo riferimento sul metronomo. Bene, ti auguro buono studio e buon divertimento e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!